Che fine ha fatto la mia pasta madre parte 2. Perché faccio questo video? Perché ho voluto fare un esperimento. Chi mi conosce sa che ne faccio tanti, procedo così, sperimentando le cose. Devo farvi vedere questo risultato qua. Cosa ho fatto? Ho preso una farina zero di forza e ho rinfrescato la pasta madre, che ormai rinfresco con grani antichi, farina di segale, una volta al giorno. L'ho rinfrescato con la farina zero per vedere che succedeva. Il risultato è questo qui. Cosa è successo? È successo che la pasta madre che ho ottenuto è strapiena di acido lattico, strapiena di batteri omofermentanti, perché nel frattempo ho lavorato con il pane di segale russo, con KMC, con pasta madre concentrata di acido lattico, e la pasta madre che ho si è semplicemente contaminata di batteri omofermentanti. Vi faccio vedere qual è il risultato che ottengo rinfrescando con una farina di grani antichi o anche con una farina di segale, per farvi comprendere qual è la differenza. Come vedete, la differenza tra questa, che si è squagliata tutta, e la pasta madre che vedete in foto, è che lì la pallina resta sostanzialmente immobile. Ok? Eppure i batteri che abbiamo al suo interno sono esattamente gli stessi, cioè è impossibile pensare che con un solo rinfresco sia cambiato il microbiota interno alla pasta madre. Perché trovo interessante questo esperimento e perché ci ho fatto un video? Perché vi fa capire ancora una volta come, diciamo, quello che ci serve per panificare con i grani antichi, con la farina di segale, con le farine artigianali, quindi strapiene di fibre, strapiene di enzimi, con una bassa percentuale di glutine o addirittura senza glutine, e sia una pasta madre diversa da quella che ci serve quando panifichiamo con il frumento, con la farina raffinata, quindi che ha pochissime fibre, quasi tutto amido, e un'alta percentuale di glutine, peraltro è atto a formare maglia. Ok? Cioè, se io questa pasta madre la utilizzassi con la farina di frumento, ne dovrei, potrei comunque panificare, ok? Però probabilmente otterrei dei panni un po' più rilassati, con poca spinta, perché non c'è quasi completamente alveolatura, ve la faccio vedere, quindi dovrei probabilmente aggiungerci il lievito di birra, perché qui c'è poca spinta, e probabilmente non otterrei un risultato ottimale, perché la quota di acido acetico è veramente bassa. Ripeto, la pasta madre che in questo momento sto gestendo viene dalla panificazione con la segale, in casa mia la contaminazione è inevitabile, per cui sapevo già che questa pasta madre si era contaminata con i batteri del classe o del lievito madre di acido lattico concentrato, per cui un po' mi aspettavo questo risultato qua. Perché è importante ragionare su questa cosa? Perché è importante ancora una volta convincersi che le condizioni che ci servono per panificare con i gradi antichi sono condizioni completamente diverse. E laddove i crani antichi hanno innanzitutto, quando sono integrali, chiaramente una maggiore quantità di fibre, e queste fibre ci aiutano a formare, diciamo, una pseudomaglia, qualcosa che assomiglia a una maglia glutinica, anche grazie al contributo dell'acido lattico. In particolar modo i pentosani e quindi gli arabinoxilani sono in grado di andare a formare una maglia che ci aiuta laddove non è presente una maglia glutinica vera e propria. Quindi mi riferisco ad alcune partite di tumminia integrale che possono tranquillamente essere trattate come se fossero senza glutine. Attenzione, senza glutine, non senza gliadine e glutenine, perché ce le hanno le gliadine e le glutenine, quindi non possono essere consumate da ciliaci, ma non sono in grado di formare glutine, o formano un glutine molto scarso, quindi molto debole, poco rigido, eccetera, eccetera, un glutine che non è utilizzabile in panificazione. O la fegale che non forma completamente maglia glutinica, nonostante ci sia la fegalina che appunto non può essere introdotta in un'alimentazione per ciliaci. Però sostanzialmente, come dire, la struttura della farina è talmente diversa che una stessa pasta madre reagisce in maniera completamente diversa. Ecco perché tutto quello che fate per le farine convenzionali non va bene, non va bene, quando si ragiona con cani antichi. Ok? Semplicemente non va bene. Bisogna ragionare in modo diverso. Io mi fermo qui, perché, insomma, questo video lo volevo fare piccolino, non mi andavo a fare un video lunghissimo, era solo per mostrarvi la differenza tra questa e quell'altra. È chiaro che se questa qui la metto a temperatura ambiente o in un luogo freddo, dopo un po' cominciano i lieviti a ripigliarsi, perché i lieviti col freddo lavorano un po' meglio, gli omofermentanti col freddo rallentano la loro fermentazione e ripartono gli eterofermentanti, quindi ricomincia una produzione acido acetico, dopo un po' questa pasta madre la riporti più o meno a livello ordinario, ma servono appunto tanti passaggi. E questo dimostra ancora una volta che la gestione della pasta madre è più importante della pasta madre stessa, cioè che non è tanto importante concentrarsi sul modo con cui avete ottenuto la pasta madre, ma sulla sua gestione ordinaria, perché vi modifica sostanzialmente il funzionamento della pasta madre. Bene, chi vuole commentare, commenti, chi ha altre esperienze, le porti pure, chi vuole consigli sulla pasta madre, utilizzi appunto il canale YouTube che è quello su cui mi sto concentrando in questo momento nella mia divulgazione. iscrivetevi al canale e insomma vi saluto e ci vediamo alla prossima.